Un 4-1, comunque mai in discussione per il Cosmos, che è andato in vantaggio nei primissimi minuti, ha mantenuto il pallino del gioco per tutta la durata dell'incontro. Una vittoria che però non è servita per aggiudicarsi il titolo di campioni del girone, visto che comunque il Valencia aveva vinto. Sì, siamo rimasti a 5 punti dal Valencia. Comunque voglio dire che abbiamo giocato contro una buonissima squadra con qualche defezione. È stata una bella partita, siamo stati più bravi a sfruttare le occasioni che ci sono capitate. Ora siamo a 5 punti dal Valencia con due gare alla fine. Sabato pensiamo di poter mettere fine al discorso campionato. Esatto, basterà un pareggio contro il tipo Liquidonia per potersi aggiudicare il titolo di campioni. Il titolo di campioni che vi siete contesi fino alla fine, forse anche con la Stella Azzurra, no? Sì, sì, ma la Stella Azzurra per noi era la squadra da battere, perché sapevamo che è un grosso complesso, un buonissimo allenatore che è il signor Beccaccioli. Invece per quanto riguarda il campionato noi giochiamo per il punto. Con tutto il rispetto a quelli si medie noi cercheremo di portare a casa i tre punti per chiudere così in bellezza il campionato. Volevo fare un complimento a tutti i miei ragazzi e a mister Salussi, che quest'oggi per vicissitudine era fuori, ma che ha allestito veramente una compagina all'altezza del girone B della C2.